Nocera inferiore come Dr. Jekyll e Mr. Hyde, i due volti di una città pulita di mattina, sporca sin dal pomeriggio ed è per questo che non vuole rallentare la sua azione di lotta all'inciviltà il sindaco Maglio Torquato che stamattina ha presentato i dati di un anno e mezzo di attività relativamente al controllo del territorio sul fronte ambientale. Le criticità permangono ma qualcosa è cambiato da due anni a questa parte, ha detto in conferenza il primo cittadino di Nocera inferiore, l'obiettivo incrementare la presenza di telecamere creando nuovi progetti affinché i servizi possano migliorare ancora e nell'intanto attraverso le sanzioni elevate sono stati recuperati 80 mila euro. Che i cittadini, che sono alcuni ovviamente non sono affatto la maggioranza, debbono rispettare la propria città così come immagino rispettino casa propria, almeno da non dover pensare che a casa propria facciano come fanno nella loro città. Io ho fatto vedere delle immagini che abbiamo registrato questa mattina nell'orario che va tra le 9 e le 11 all'incirca e ritraggono un po' tutta la città come viene ripulita. È una città oggettivamente foto alla mano pulita. È chiaro che ci sono anche i luoghi critici, se uno si ferma magari in qualche angolo di strada troverà una cartaccia e la potrà fotografare, ma questo in tutta Italia si può fare. Noi abbiamo le nostre criticità, che non ignoriamo, ma è pur vero che abbiamo una città che viene, nonostante le grandi difficoltà di partenza che riguardano proprio la questione dei rifiuti, organizzativa, di gestione, di finanziamento, viene mantenuta a livelli accettabili, più che accettabili, direi. L'appello quindi ai cittadini a comportarsi da persone civili. È inimmaginabile che noi nel pomeriggio, dopo che abbiamo visto che le attività vengono svolte di pulizia, troviamo cartacce fuori bar, fuori le rosticerie, cose buttate per terra o imbrattate altri luoghi con manifesti affissi abusivamente e locandine. Ispettori ambientali e polizia municipale hanno elevato più di 400 sanzioni sul fronte sversamento illegale dei rifiuti negli ultimi 18 mesi, recuperando per le casse del comune circa 80.000 euro, di cui il 30% già incamerato dall'ente. Quasi 50 i verbali elevati invece per le affissioni abusive e il lavoro dei vigili urbani non si ferma qui. Ci sono 400 verbali, di cui il 30% è stato già recuperato e stiamo in attesa di fare procedure per recuperare l'altro 70%, con procedure, diciamo, con ordinanze in giunzione di pagamento ai diretti responsabili. L'attualità ci dice che avete ritrovato su una segnalazione addirittura di bambini una serie di farmaci non scaduti e che sono stati posti sotto sequestro proprio nelle ultime ore. Sì, su segnalazione di alcuni bambini, secondo me erano andati a giocare a un bicicletta e quant'altro, sotto un cavalcavia in zona rurale sono stati ritrovati parecchi farmaci, in genere, secondo me, intorno a qualche quintale e più di farmaci ancora in corso di validità e che sono stati sottoposti a sequestro e stanno in corso di indagini in merito.